ragazzi oggi vi farò vedere la mia casa, aspettate, la mia casa di soldi vi farò vedere i componenti della casa, ve la farò sempre allora qui è la mia lavatticina che una volta funzionava poi ci sta una vasca che parte dentro e ovviamente ci sta qua il cabinetto, vedete qui, ci sta comunque il cabinetto con il lavandino, io ho usato questo come panca, poi ci sta il tavolo con le sedie, poi ci sta il tavolo con la televisione che si mette dentro, ci sta l'ascensore eccola, poi ci sta la stampa, questa qua che tengo un po' in disordine, prezzonatemi attimo, cos'è questa cuscina, cos'è raga, veramente cos'è questa cuscina? allora vi faccio vedere il garage, la macchina dentro, poi tengo la cuscina con tutte le cose dentro e comunque la case è alta, ve la faccio vedere, aspettate, aspettate, casetta, e così diciamo la casetta e ho, ah, mi sono dimenticato, vi faccio vedere la piscina, eccola, che mi sembra una finestra, però apri, mettila qua dentro la piscina, io ovviamente non l'ho mai fatto, mettete 150.000 like, no, di meno, 100 like, 101, è 1, è 1, è 1, è 1, 101 like, e 1, niente, ciao ragazzi, scrivetemi giù nei commenti cosa devo fare, qualche challenge a chi mi deve imparare, scale, ruota, quello che vuole, ciao! 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 ciao!